È stata una bella partita alla fine di tutto, siamo venuti qua per provarci, siamo riusciti a portare in nuova squadra come Kundotai Breck, a mio avviso le due battute di Seltan saranno buone, però finché non avremo un check ancora una volta, secondo me siamo stati penalizzati, poi complimenti a loro perché infatti è una gran partita, complimenti anche a noi, se potete giocare un attimo 3-2 qua, molto tirato, quindi sono contento.